Il Vangelo nella città è il nome della raccolta degli atti del convegno del Dipartimento di Teologia dell'Evangelizzazione della Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna, che è stato presentato lo scorso anno, era il mese di marzo. Queste immagini testimoniano proprio l'attività di quei giorni. Gli atti, che appunto portano il medesimo titolo Il Vangelo nella città, saranno presentati giovedì 26 di novembre sui canali social delle edizioni Deoniane e Bologna, che sono appunto gli editori di questo volume, saranno presentati sulla piattaforma Facebook e sulla pagina di YouTube, quindi potrete vederli anche indifferiti in un altro momento rispetto a giovedì. Siamo in compagnia di Don Maurizio Marcheselli, che è il direttore del Dipartimento di Teologia dell'Evangelizzazione della Fterre e che cura questo volume. Dunque, Don Maurizio, innanzitutto grazie per il suo tempo. Da dove è nato lo spunto, già un anno fa, e poi contenuto in questi atti, di parlare del Vangelo nella città. Noi avevamo lavorato in precedenza sul tema di identificare alcuni snodi in cui, in modo particolare, si rivelano criticità, difficoltà, problemi, problematicità dell'umano, cioè della vita delle persone, nel nostro contesto socioculturale e in questo contesto cronologico. dobbiamo focalizzare l'ambiente urbano, la città. Perché? Beh, uno dei motivi fondamentali è che questa è anche una grande insistenza dell'attuale pontificato.